un certo punto entro saluto saluto la vedova seduta con se a vicino fa saluta ha visto il saluto di pietra il fuoco povera cristiana vedo dolore il fuoco il fuoco tutti i sedi occupati grazie a Mattei arrivavano man mano altra gente che sta sempre con se ho detto madonna il potere chiange non ti hai chiamato nemmeno passano cinque minuti arrivano quelle di bombe fuori e cominciano a cacciafiore questa preparanza allora un momento tutti i figli tutti intorno al mare un po' le va un po' le va il secondo sta molto bene un momento un momento niente niente e chi sa fermo se no io per davvero con mia mano c'è a niente che cosa è che si c'è che si passano vinti secondi si da e si es posto qui cosi oi francesco oi francesco oi francesco oi che mi ha fatto francesco mia oi stasera quine momento stasera quine momento stasera quine momento io stasera quine momento io stasera quine momento mi hai sentito sui questo era così mai pensando che a chi sa come una capo bello che avevi detto che era un momento che era un momento e ne guardava a tu no una cosa un sogno è vero che era quello di pompefone perché ha fatto così come ha senato tutto che sei no perché non 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 ma non non oi è stata quattro o cinque volte che è neanche guarda Guarda, è stata una cosa